Brizzi anti-contraffazione delle fiamme gialle. Martedì mattina gli uomini della compagnia di Viterbo hanno eseguito un maxi sequestro da oltre 2000 pezzi di merce contraffatta, tutti capi di abbigliamento per adulti e bambini, ma anche accessori come borse e occhiali. I denunciati, otto in tutto, di nazionalità senegalese avrebbero messo in atto un raffinato meccanismo di contraffazione che prevedeva l'applicazione di decalcomanie su scarpe e altri capi di abbigliamento con i loghi delle più famose griffi in commercio tra cui Nike e Adidas. Grazie. 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 Grazie.